Paura e tristezza con questi sentimenti si sono messi in viaggio oggi i pendolari, con in mente ancora le drammatiche immagini del treno deragliato il giorno prima. Un treno appunto carico di pendolari, diretti sul luogo di lavoro e a scuola. A unirsi al cordoglio dei familiari e degli amici delle vittime e di tutti coloro che hanno vissuto quegli attimi di dolore, anche i rappresentanti del comitato pendolarico a Molecco, che attraverso un comunicato stampa congiunto con i comitati dei viaggiatori del trasporto ferroviario Lombardo, lanciano un appello alle istituzioni. Auspichiamo che le cause dell'incidente siano presto chiarite in ogni loro sfumatura e che si prendano tutte le misure del caso, perché una tragedia di questo tipo non si verifichi mai più sulla rete ferroviaria regionale della Lombardia, così come su tutte le altre direttrici ferroviarie italiane, spiegano i comitati. Confidiamo in tutte le istituzioni, a ogni livello, in tutte le aziende coinvolte, perché finalmente si possa raggiungere il livello di qualità, manutenzione e sicurezza che non sempre, neppure in Regione Lombardia, è stato sempre disponibile. Infine, sottolineano, non sempre abbiamo avuto l'attenzione che meritavamo e pertanto ci aspettiamo che il rispetto di istituzioni e aziende si traduca finalmente in veri e attenti investimenti su manutenzione, sicurezza e informazione ai clienti.